Stamattina arrivando prendevo atto del fatto che le aree del comune, le aree dove i cittadini vengono e dove il comune è rappresentato sono immagine dell'incuria di questa città che ormai appunto ci sovrasta. Notavamo l'insegna illegibile, notavamo le erbacce dovunque, insomma, eravamo abbastanza stupiti per cui trovarvi qui a rappresentare questa situazione mi ha fatto un certo piacere. Quasi un anno venivano a fare la verifica completamente e nessuno ha preso una decisione, ogni giorno esce un topo così grande. Guarda che cosa c'è. Non c'è solo questo, abbiamo visto che c'è molto. C'è uno di tutti, è completamente a buio. Siamo qua senza luce, senza illuminazione, io ci stavo 24 ore su 24, qua a buio una persona può non uccidere completamente. Cosa le hanno detto quando ha sollevato il problema? C'è un po' di no? Dice, dove abbiamo vado, avevo più di un anno, intanto è rimasto sempre così, questo buco. Davvero raccapricciante come una sede istituzionale aperta alla cittadinanza sia in questo stato. Sì, purtroppo è vero lo stato di degrado e di incuria che circonda un po' tutta la struttura la dice lunga sulla mancanza di presenza delle istituzioni del territorio. Basta dare un'occhiata alle aiole completamente non curate, prive di potature, che creano moltissimi rischi della collettività anche in termini di possibili incendi. Potrebbero nascere qui delle aiole, degli spazi per i bambini, dei giochi, delle aree di divertimento, visto che tra l'altro oltre ad essere la sede delle poste del territorio, questa è anche e soprattutto la sede dei servizi, di tutti i servizi della quinta circoscrizione. A breve verranno trasferiti anche gli uffici della circoscrizione stessa, ma questo purtroppo ad oggi è lo stato di totale abbandono in cui versa l'intera area.